Proponiamo in maniera ferma e positiva la creazione di un'agenzia del marketing territoriale in entrata, quindi è un sottosegmento dell'internazionalizzazione, ma è quel sottosegmento che a nostro avviso è per adesso negletto ed è quello che, sempre a nostro avviso, è quello che deve compensare il declino demografico e il declino imprenditoriale legato alla demografia della nostra comunità. Dobbiamo far venire capacità, persone da fuori a compensare i vuoti che si stanno creando al nostro interno. Quindi in questo senso abbiamo fatto di questo una battaglia centrale e andiamo anche nella nostra relazione un po' più nel dettaglio e non ci limitiamo a delle esortazioni come abbiamo fatto negli anni passi. Fa parte dell'attività, se mi permette di dire, di servizio per la comunità che sentiamo nella nostra missione di fare. È un progetto che ha avuto una gestazione lunga, in alce, di circa 4 anni. Poi ha trovato, e li ringrazio, l'appoggio sostanziale, organizzativo e finanziario della Camera di Commercio che l'ha fatto suo e dell'Università di Genova che gli ha dato la validazione scientifica, il supporto all'attività di ricerca. È sostanzialmente un portale di accesso a tutti i servizi bancari internazionali disponibili, ma non è e non si riferisce alla comunità ligura genovese, è un portale nazionale. Quindi qualunque operatore del commercio internazionale troverà immediatamente i parametri e i riferimenti per qualunque operazione bancaria in qualunque paese del mondo e saprà esattamente dove andare e dove rivolgersi. È un servizio che non esiste, è un servizio innovativo e che mettiamo a disposizione tutta la comunità. Grazie a tutti.